Sì, è buono! Cibo brasiliano? Non italiano, eh? Katia, ti gusta il cibo italiano o il cibo brasiliano? Brasiliano! Brasiliano! Ti gusta il cibo italiano? No, perché? Eccola, Denise qua! Tieni fomi? Denise, tieni fomi? Tieni, tanta fomi! Guarda, guarda, sta stendendo! Signor Martezio, ti gusta il cibo italiano o brasiliano? Eh? Misturato? Misturato, brasiliano e portoghese? Italiano! Italiano! Lì, sì! Lì, sì! Voi fare di Raimundo, sei lato! È! Voi? Sì, sì! Voi, sì! Voi, sì! Voi, sì! Guarda qui, la Lilia! Voi! La Lilia! Grazie.